Oggi, quando parliamo di Terra, ci riferiamo sostanzialmente a due cose. Il nostro pianeta, è il nome che abbiamo dato al nostro pianeta nel sistema solare e nello spazio, e poi alla superficie emersa del nostro pianeta, la crosta terrestre. Quando invece parliamo di suolo, intendiamo una miscela specifica, particolarmente complessa e eterogenea, formata da sostanze minerali e organiche che permette la vita di piante e animali. Ai tempi di Dante, il sommo poeta della letteratura italiana, non si faceva ancora questa distinzione tra terra e suolo, ma il termine terra ricorre spessissimo nell'opera d'Antesca ed è molto importante. Nel convivio e nella commedia è uno dei quattro elementi naturali che compongono l'universo, indica il materiale con cui è costituita la superficie terrestre, e anche la materia con la quale Dio formò il corpo dell'uomo. Nella commedia non ci sono passi riservati al suolo come lo intendiamo oggi, si parla di terra, ma in tante accezioni. E iniziamo questo viaggio verso la nostra divina terra, vedendo Dante nella selva oscura, nel primo canto dell'inferno, dove la selva è il simbolo delle avversità che l'uomo incontra nel percorso della sua vita. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante amara, che poco e più morte, ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò dell'altre cose che vo scorte. Io non so ben ridir come io vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede un colle giunto, laddove terminava quella valle, che m'avea di paura il corco un punto. Guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Nel canto dodicesimo dell'inferno, Dante ci dà una dimostrazione della sua conoscenza geografica. Invoca l'immagine della valle dell'Adige, il termine alpestro indica montagna in senso generale, non si riferisce soltanto alle Alpi. E della gigantesca frana che si trovano di fronte, Dante offre due possibili spiegazioni. Un terremoto per tremoto, oppure l'erosione idrica che avrebbe scalzato il pendio alla base causandone il crollo, per sostegno manco. Temi entrambi ancora di grande attualità. Era lo loco ove a scender la riva venimmo alpestro, e per quel che veranco tal conni vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adige percosse, o per tremoto o per sostegno manco, che da cima del monte, onde si mosse, al piano è sì la roccia di scoscesa, calcuna via darebbe a chi su fosse. Cotal di quel burrato era l'ascesa. Nel canto XIV Dante e Virgilio passano attraverso un deserto sabbioso e camminano lungo gli argini di un fiume ribollente che si diparte dal Fleggetonte. Per spiegare le caratteristiche del ruscello degli inferi, Dante usa dei contesti geologici reali che lui conosceva e menziona le sorgenti d'acqua sul fuori a vicino a Viterbo, note con il nome di bullicame. Dante afferma che, come per il bullicame, il fondo e i margini erano costituiti di pietra, fa terra in pietra e margini da lato, quindi induriti se comparati ai sedimenti sabbiosi sciolti appena attraversati. Il dantista Natalino Sapegno riteneva scientificamente non valida questa lettura di Dante, tuttavia questa invece può essere proprio la spiegazione corretta, perché i margini del bullicame sono formati da incrustazioni di travertino idrotermale con deposizione di carbonato dovuto all'attività microbica. Quindi in realtà Dante ne sapeva abbastanza di terreno e di incrustazioni. Tacendo divenimmo la ves piccia fuor dalla selva un picciol fiumicello, lo cui rossore ancor mi raccapriccia. Quale dal bullicame esce ruscello che parton poi tra lor le pettatrici, tal per l'arena giù sengiva quello. Lo fondo suo e ambo le pendici fa terra in pietra e margini delato, per chi io m'accorsi che passo è ralici. Nel ventesimo canto dell'Inferno si cita Aronta, l'indovino etrusco che assieme ad altri indovini alberga nella quarta bolgia dell'ottavo cerchio. Qui vi sono riferimenti al marmo di Carrara, con l'uso del termine ronca, che indica la pratica di deforestazione e aratura della terra occupata dalla popolazione locale, quando l'industria del marmo non aveva ancora raggiunto grande importanza. Una pratica che insomma è significativa anche per l'utilizzo del territorio che facciamo oggi. Come abbiamo già visto, in tutta l'opera dantesca si evince una conoscenza profonda della geografia dei luoghi. Nel canto trentaduesimo dell'Inferno, il poeta descrivendo il fondo dell'Inferno occupato dal lago ghiacciato di Cocito, cita il Danubio in Austria, o Sterlicchi, dice, e il Don sotto i freddi cieli di Russia. Dante scrive che il ghiaccio del lago era talmente spesso che non avrebbe ceduto neanche se un'intera montagna vi fosse caduta dentro, e cita Tambernicchi, che sarebbe il monte Tambura nelle Alpi Apuane, noto nei testi antichi con il nome di Stamberlicchi, e Pietrapana, l'attuale Pania della Croce, sempre nelle Alpi Apuane. Perch'io mi volse e vidime davante e sotto i piedi un lago che per gelo avea di vetro e non d'acqua sembiante, non fece al corso suo sì grosso velo diverno la danoia in osterlicchi, né tanai là sotto il freddo cielo, com'era Quivi, che se Tambernicchi vi fosse succaduto, o Pietrapana, non avria pur dall'orlo fatto cricchi. Nella commedia, e soprattutto nel Paradiso, il termine terra viene spesso messo in relazione con un altro termine, cielo, quasi a indicare il polo negativo di una linea ideale che va dalla terra al cielo e che racconta appunto l'esistenza umana, l'uomo che dalle passioni animali arriva nel corso dell'esistenza ad aspirare al divino. E questo poi è il cammino dell'uomo, appunto l'allegoria stessa raccontata nella commedia. Chi oggi studia il suolo sa bene come roccia, terreno, organismi viventi e atmosfera si fondano in un unico ambiente chiamato pedosfera, lo spazio nel quale il suolo assume un'importanza primaria, determinante per tutti gli organismi viventi e quindi anche per l'uomo. Quindi per finire, celebriamo questa giornata della terra con un finale tratto dal convivio, opera in cui Dante ha voluto offrire un banchetto, un convivio appunto, della sapienza dei suoi tempi. Terra qui è sinonimo di suolo, proprio in senso agrario, anche come strato di una certa profondità in cui può essere chiuso o custodito qualcosa. E nel primo capitolo dice proprio «La terra dove lo tesoro è nascosto». E con i dovuti accorgimenti le nozioni di Dante sono valide ancora oggi. Lo tempo, secondo che dice Aristotile nel quarto della fisica, è numero di movimento, secondo prima e poi, e numero di movimento celestiale, lo quale dispone le cose di quaggiù diversamente a ricevere alcuna informazione, che altrimenti è disposta la terra nel principio della primavera a ricevere in sé la informazione delle erbe e degli fiori, e altrimenti l'overno, e altrimenti è disposta una stagione a ricevere lo seme che un'altra. E così la nostra mente, in quanto ella è fondata sopra la complessione del corpo, che a seguitare è la circolazione del cielo, altrimenti è disposto un tempo, e altrimenti un altro. Nel convivio Dante citava delle nozioni aristoteliche e già ci invitava a rispettare il suolo, a farne un uso accorto, in armonia con quelle che oggi chiamiamo condizioni pedoclimatiche. In sostanza ci invitava a rispettare i ritmi della natura. Ascoltiamo questo suo messaggio poetico e così profondamente culturale, per consegnare alle generazioni future un suolo sano, rispettando gli equilibri delicati che la cultura del suolo comporta. Il suolo è la divina terra che ci nutre. Rispettiamolo.